Sarà un'associazione temporanea di imprese di Lercara Friddi ad effettuare lavori di costruzione per conto del comune di Agrigento di nuove alloggi da affittare a canone sostenibile relativamente alla parte pubblica del progetto Terravecchia di Girgenti. La gara d'appalto era stata bandita dall'urega di Agrigento. Il progetto prende l'avvio da un bando regionale pubblicato alla fine del 2008 quando la regione dava mandato ai comuni di predisporre dei progetti per attingere alle risorse statali e regionali prevedendo anche forme di compartecipazione con privati. La prossima settimana ho fissato un incontro per fare partire immediatamente i lavori. È stata individuata la ditta che dovrà svolgere questi lavori per quanto riguarda la parte pubblica. Stiamo chiamando la parte privata perché sono lavori che devono iniziare insieme. Proprio la prossima settimana avremo un incontro per concordare insieme i tempi di inizio dei lavori. Ma ormai siamo assolutamente pronti per poter iniziare questo importante investimento nel territorio di Agrigento.